Benvenuti al TG10, tra poco l'apertura del telegiornale la dedicheremo alla pagina sindacale, in particolar modo vi riferiremo della presenza oggi a Gela del segretario nazionale della FEMCACISL, si è parlato di riconversione ENI e soprattutto della sentenza del Consiglio di Stato che ha bocciato il ricorso sulla sospensione delle perforazioni e i completamenti di alcuni pozzi per l'estrazione del gas. Parleremo anche della vicenda Porto Rifugio di Gela, il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle chiede la testa del vice sindaco Simone Siciliano per Igrellini, l'esponente della giunta messinese, si è dimostrato inadeguato e non capace a perseguire l'iter autorizzativo procedurale di un progetto di pubblica utilità. Spazio anche ad una iniziativa promossa dalla Lions Club di Gela, parleremo anche del Gela Calcio ed in particolar modo dell'esonero del tecnico Toto Brucculeri. Spazio infine all'arte e al teatro che per una sera saranno assieme per aiutare i terremotati. Di questo e di altro, sfido dopo la pubblicità. Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale oggi la dedichiamo alla pagina sindacale, in particolar modo vi riferiamo della presenza a Gela del segretario nazionale della Femme Cacisla. Si è parlato di riconversione Eni e soprattutto della sentenza del Consiglio di Stato che ha bocciato il ricorso sulla sospensione delle perforazioni e i completamenti di alcuni pozzi per l'estrazione del gas. Riconversione Eni, occupazione e sentenza del Consiglio di Stato sono alcuni dei temi affrontati questa mattina nel corso di un incontro che si è svolto nei locali della Femme Cacisla di Gela alla presenza del segretario nazionale Angelo Colombini. La sentenza del Consiglio di Stato che ha bocciato le richieste avanzate da comuni e associazioni di sospendere le perforazioni e i completamenti di alcuni pozzi per l'estrazione del gas, adesso, dice Colombini, apre uno scenario completamente diverso. Noi dovremmo chiedere innanzitutto all'Eni di non tergiversare sugli investimenti, visto che il Consiglio di Stato ha rigettato con la sentenza il ricorso fatto da alcuni comuni e da alcune associazioni ambientaliste. Questo vuol dire che Eni deve rilanciare l'investimento immediatamente proprio per dare corpo all'occupazione del territorio, proprio per rilanciare sempre il territorio come peculiarità dei cittadini e dei lavoratori. Dall'altro lato, il governatore e le istituzioni centrali governative devono sempre più frettolosamente dare le autorizzazioni per completare tutto il protocollo, perché non è possibile che per un'autorizzazione dobbiamo aspettare 6, 7, 8 mesi e questo andrà a discapito, purtroppo, con questo tempo perso, andrà a discapito dei lavoratori, sia quelli interni alla raffineria, ma sia quelli dell'indotto. Poi, se i tempi sono cosuliunghi, non possiamo lamentarci se i lavoratori e i cittadini si arrabbiano, fanno bene. Ora, la responsabilità è che il governatore della Sicilia e i ministeri autorizzativi rilaccino sempre di più immediatamente le loro competenze. Intanto, il prossimo 19 settembre, incontro al Ministero dello Sviluppo Economico, altro tavolo in merito ai lavori della Green Refinery. Noi adesso chiederemo anche un incontro a livello regionale per quanto riguarda tutte quelle autorizzazioni atte, che non sono solo perché quel protocollo prevedeva solo la perforzazione, ma anche per quanto riguarda l'esplorazione, per quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo. Menina, però, molto più chiara, Francesco Emiliani, cosa quel giorno la CIS le metterà sul tavolo delle trattative? Sicuramente quello che è l'immediata attuazione di quello che era un percorso che Gianni aveva detto per quanto riguarda l'acquisto dei materiali. Noi fermamente diremo di accelerare più velocemente quello che è l'acquisto e la realizzazione della piattaforma stessa. Per quanto riguarda la Green Refinery, abbiamo avuto un incontro con Eni e sono in linea, possibilmente su quelli che abbiamo i prossimi incontri possiamo dare delle informazioni più dettagliate, se nel prossimo futuro, nel 2017, questo che siamo in linea è ancora fattibile. Emanuele Gallo, segretario generale CISL. Ad oggi ci sono responsabilità per quanto riguarda il governo regionale per l'autorizzazione alla perforazione a terra e nello stesso tempo noi abbiamo problemi per quanto riguarda la questione della cassa integrazione dell'indotto. Perché nell'ultimo incontro che c'è stato al Ministero dello Sviluppo Economico, il sottosegretario Bellanova diceva di utilizzare circa il 5% della cassa integrazione in deroga che rappresentano circa 400 euro, una goccia nell'oceano. Per questo comunque deve intervenire il governo nazionale affinché dia la possibilità di dare cassa integrazione per le aree di crisi complessa nel nostro territorio. E adesso occupiamoci della vicenda Porto Rifugio di Gela. Il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle chiede alla testa del vice sindaco Simone Siciliano per i grillini l'esponente della giunta messinese si è dimostrato inadeguato e non capace a perseguire l'iter autorizzativo procedurale di un progetto di pubblica utilità. Tira aria pesante sulla vicenda Porto Rifugio di Gela ed in particolar modo sul mancato inizio dei lavori di dragaggio. Ieri ai nostri microfoni il vice sindaco Simone Siciliano aveva detto che l'amministrazione comunale è attiva e non c'è alcun ostacolo. Si sta lavorando per chiudere positivamente la vicenda. Non è dello stesso avviso il Movimento 5 Stelle che chiede alla testa di Siciliano invitando il sindaco a sollevarlo dall'incarico perché, dice una nota, si è dimostrato inadeguato e non capace a perseguire l'iter autorizzativo procedurale di un progetto di pubblica utilità. Secondo Grillini, la giunta comunale sembra interessata solo al declassamento del porto di Gelada SIN, sito di interesse nazionale, a SIR, sito di interesse regionale ottenendo così minori garanzia, tutela del territorio e maglie più larghe per opinabili interventi di riconversione. Ed è per questo, sostengono i consiglieri del Movimento 5 Stelle, che l'amministrazione comunale non ha fatto partire alcun iter autorizzativo riguardo il progetto dei lavori di dragaggio del porto rifugio che giace ancora alla protezione civile. Durante l'ultimo incontro, scrivono in una nota i consiglieri ventastellati, tenutosi lo scorso 24 agosto in consiglio comunale, dove erano presenti anche il tecnico del Dipartimento Protezione Civile della Regione Siciliana, l'ingegnere Calafato, il tecnico del Genio Civile ed esponenti della politica locale, tra cui diversi consiglieri comunali, il vice sindaco, dopo essersi fatto attendere, ha esordito affermando di non comprendere l'oggetto della riunione e soprattutto l'esigenza della sua convocazione. A questo suo inspiegabile supporto ha poi giunto che la responsabilità della dilatazione dei tempi nell'iter procedurale è da debitarsi al Dipartimento della Protezione Civile e non certo dell'amministrazione, nel più classico degli scaricabarile. Pochi attimi dopo però smentiva se stesso, affermando che non c'era alcun ritardo e che tutto procedeva con i giusti tempi, ribadendo che firmare o meno il protocollo non inficiava l'iter autorizzativo. Le affermazioni del vice sindaco Simone Siciliano sarebbero però state smentite dall'ingegnere Calafato, il quale ha dichiarato che la Protezione Civile non può procedere in assenza di una copertura finanziaria dell'intervento. Il Movimento 5 Stelle di Gela, tramite il consigliere Virginia Faruggia, ha rilevato le lamentele della Protezione Civile, evidenziando che sembrerebbe esserci una volontà del vice sindaco di dilatare i tempi per poter dire che la responsabilità dei periodi lunghi deriva dal fatto che il porto di Gela è un sito di interesse nazionale. Obiettivo dell'amministrazione sarebbe invece, secondo 5 Stelle, quello di arrivare al riconoscimento SIR sito di interesse regionale, ma secondo il gruppo consigliare Pentastellato, questo aggraverebbe ancora di più la situazione del porto perché allungherebbe ancora di più i tempi di presentazione del progetto e provocherebbe la perdita dei fondi che il governo nazionale può stanziare per il Comune di Gela e per il suo risanamento. Fondi ricevibili solo sullo stesso rimarrà sito di interesse nazionale. I comitati per i liberi consorsi tornano a scrivere al Presidente della Regione, all'assessore e alle autonomie locali affinché si dia attuazione alla legge che esituisce i nuovi liberi consorsi il cui articolo 44 rimane ancora inapplicato. Si chiede al governo di rispettare la legge vigente e ripresentare i disegni di legge di variazione territoriale completi, questa volta della necessaria istruttoria da parte dell'assessorato competente come espressamente chieste in aula dal Presidente della Prima Commissione Legislativa Permanente. I comitati attenderanno ancora 10 giorni e si riservano di intraprendere altre iniziative di lotta. Istituire un bonus cultura per tutti gli studenti delle scuole medie per l'acquisto di libri, scolastici e non, oppure per frequentare parchi, eventi culturali, musei, cinema, concerti, gallerie d'arte e teatro. La richiesta avanzata dal gruppo consigliare del megafono è contenuta in un eventamento al bilancio 2016. L'obiettivo è quello di stimolare i giovani a riscoprire la cultura in tutte le sue forme. Il Lions Club di Gela ha ideato un progetto che sarà presto lanciato in città. Noi abbiamo già comunicato che siamo entrati in un circuito che si chiama l'Associazione Internazionale Città Murate Lions, siamo il primo club in Sicilia ad aver aderito e ne fanno parte città, intanto sono 117 nel mondo, di cui fanno parte San Marino, Gubbio, Lucca, Bergamo e città internazionali come Avignon, Carcassonne, eccetera. Quindi ci andiamo a confrontare con delle bellissime realtà che noi conosciamo e anche noi nel nostro piccolo speriamo di fare bella figura e quindi diventa una scommessa per noi Lions ma anche per l'amministrazione e la città tutta. Qual è questo progetto? Questo progetto, quindi a parte discorso che siamo entrati dall'Associazione Internazionale, noi avremo la presentazione ufficiale del nostro ingresso a Castelfranco Veneto perché si tiene un congresso all'anno nel mondo, quindi a giugno sarà a Castelfranco Veneto, il club di Gella presenterà la propria città, le proprie città e quindi le proprie mura e i propri scopi, i progetti e quant'altro. Praticamente è un video concorso, quindi un concorso videografico, siccome noi avremo 10 minuti per presentare al mondo la nostra città murata e questi 10 minuti noi proietteremo dei video e quindi faremo la nostra relazione. I video vogliamo farlo fare ai cittadini, quindi quale migliore idea se non quella di bandire questo concorso videografico dove potranno partecipare tutti gli alunni della scuola, ma anche i cittadini, anche i professionisti, dove ci saranno dei premi, penso 3, 4, 5, vediamo quelli che saranno, però già il bando è pronto, quindi è una bella scommessa, un bel lavoro, il lavoro dovrà essere presentato entro marzo, quindi invito tutti quanti volessero partecipare a fare delle riprese di questo palio che quindi rientra bene o male nella storia di Federico II, l'anno mio sociale improntato proprio su questo, su Federico II, la città murata di Gela, noi abbiamo una grandissima storia, lo sappiamo, siamo qua a ripeterlo, però è un po' trascurata e noi vogliamo rilanciare. Chi volesse partecipare cosa deve fare? Ecco, praticamente deve preparare un video, se vuole a colori oppure misto colori e bianco e nero, che faccia vedere le mura di Gela, anche le riprese delle feste che si svolgono all'interno delle mura, anche per titolo è il tema, le mura gelose custodi della storia, arte e cultura della nostra città. E spedirlo a chi? Ecco, questo va spedito a me, presidente, adesso metteremo in circolo il bando dove ci sarà l'indirizzo mio e spedire lì la copia con CD, pendrive che comunque poi ne valuteremo, faremo una bella commissione, già ho in mente da chi sarà composta, poi lo metteremo per iscritto e quindi credo che sia una bella scommessa. Continua l'iniziativa in merito ai festeggiamenti in onore di Maria Santissima D'Alemanna, patrona di Gela, ogni giorno, lo ricordiamo, alle 7.30 fino al 7 settembre si terranno le preghiere della Rosario e della Novena della Madonna. Alle 7 la celebrazione eucaristica con omeria alle 18.30 e la Rosario Coroncina di Maria Santissima. D'Alemanna. Oggi alle 21 si daranno appuntamento i gruppi del rinnovamento nello spirito. La richiesta del sostegno economico per i soggetti affetti da sclerosi laterale amiotrofica si potrà presentare fino al prossimo 30 settembre. Lo ha reso noto l'assessore comunale ai servizi sociali Licia Abela dopo che sono stati riaperti termini di scadenza dalla regione siciliana. Per scaricare il modulo dell'istanza i gelesi interessati possono consultare il sito del comune oppure possono rivolgersi all'ufficio di segretariato sociale di Viale Mediterraneo. Fai la cosa giusta, differenzi ai rifiuti, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi giovedì dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione il vetro nella pattumiera di colore verde in dotazione. Cosa conferire? Bottiglie prive di tappi, fiaschi senza paglia, barattoli e vasetti, bicchiere e brocche solo se in vetro, non cristallo, vetri vari anche se rotti, contenitori vari in vetro per alimenti e non, senza tappi e o altri materiali diversi. Depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fondi di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche, senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. Un ambiente pulito e sano, basta un piccolo gesto. Seconda parte del telegiornale di Eccoci, capriamo parlandovi dell'esonero del tecnico del Gela Calcio, Totò Brucculeri. Al momento rimangono un mistero le cause che hanno indotto la dirigenza a sollevarlo dall'incarico. Una nota di poche righe per comunicare che Salvatore Brucculeri, quando mancano appena quattro giorni all'inizio del campionato di Serie D, non è più l'allenatore del Gela. È stato sollevato dall'incarico di guida tecnica della prima squadra. Sembra di stare su scherzi a parte, ma è la cruda e nuda verità. Brucculeri, l'allenatore che in due anni ha conquistato altrettante promozioni con il Gela, da oggi non fa più parte del club bianco-azzurro. Lui, che ha seguito dalla vicenda devastante e che ha interessato il Gela Calcio in questi ultimi giorni, aveva esortato i tifosi a stare vicino al club e invitato chi li copre ruoli istituzionali a fare il possibile per non fare morire una creatura che domenica, dopo domenica, regala un sorriso. Tutto ci aspettavamo, ma che si arrivasse a questa conclusione, no. Anzi, per dirla tutta, non ce l'aspettavamo proprio e siamo sicuri che non ce l'aspettava nessuno. Al momento attuale, a quattro giorni dall'inizio del campionato, con la trasferta di Pomigliano d'Arco, il Gela non ha un allenatore, non ha Brucculeri. Proprio in questi giorni, esattamente sabato 27 agosto scorso, in un momento assi difficile per la società bianca-azzurra, il tecnico si era presentato dinanzi alle nostre telecamere esprimendo vicinanza alla dirigenza e ribadendo amore incondizionato a Gela e al Gela Calcio. Cosa si è accaduto nelle ultime ore rimane attualmente un mistero. Intanto già si fanno i primi nomi per la successione. Si parla di Fufo Ammirata e di Danilo Rufini. Anche al Comune di Gela è possibile presentare stanza per l'ottenimento del sostegno per l'inclusione attiva una nuova misura di contrasto alla povertà. Il sostegno per l'inclusione attiva prevede un sussidio economico alle famiglie economicamente svantaggiate subordinato all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa. Possono presentare in stanza i nuclei familiari con un indicatore ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro e nei quali siano presenti minorenni, figli disabili o donne in stato di gravidanza accertata. I cittadini interessati in possesso dei requisiti richiesti potranno presentare le domande da domani al 31 dicembre direttamente al protocollo generale del Comune di Gela. Per scaricare l'avviso e il modello dell'istanza è possibile consultare il sito del Comune di Gela oppure ci si può rivolgere all'ufficio di segretariato sociale di Viale Mediterraneo. Ultimo appuntamento con teatro sotto le stelle all'Arena all'aperto di Macchitella. Sabato 3 settembre alle 21.30 la compagnia Antidoto porterà in scena la fortuna con la F maiuscola. L'ingresso è di 5 euro a coppia e per l'occasione tutti gli spettatori potranno partecipare ad un'estrazione che mette in palio un'opera dell'artista gelese Giovanni Giudice. Il ricavato, anche quello che si otterrà dalla vendita dei biglietti, sarà devuto in beneficenza ai telemotati dal centro Italia. L'unione tra il teatro e l'arte, la creatività, in cui la serata della commedia vedrà questa splendida idea di fare un sorteggio, una pesca, come si suol dire, per estrarre il vincitore di questo quadro che poi è una litografia pastellata a mano, comunque un esemplare unico, destinato appunto a questo fondo ai telemotati del centro Italia. Emanuele Giamusso, come vi è nata questa idea? Perché voi scherzate sul palco e non solo, però quando si parla di solidarietà voi realmente aprite le porte? L'idea è nata da una telefonata con l'amico Alba, con Michele, che ha contattato subito l'artista giudice e quando l'arte e lo spettacolo si mettono insieme possono fare cose molto ma molto importanti. Questa per i nostri fratelli e le nostre sorelle del centro Italia, i terremotati, è una cosa che noi volevamo veramente con tutto il cuore e con la fortuna, con la F maiuscola abbiamo la fortuna di avere l'artista giudice che regala questo bellissimo quadro e che verrà messo in sorteggio. Al prezzo di un euro e il biglietto il valore del quadro è all'incirca di circa 1000-1200 euro. Gela, non solo gela, tutta Italia ho visto e ho sentito che si sta stringendo in effetti attorno a questi fratelli sfortunati che hanno avuto questa disgrazia in questi giorni. e noi qua del gruppo Antidoto cerchiamo di essere solidali con questa popolazione sfortunata, così come lo sono stati tutti i gelesi e tutta la popolazione italiana. Speriamo di vendere 2000 biglietti e il ricavato sarà tutto devoluto alla città di Amatricia. E ricordiamo che il prezzo è di 5 euro a coppia. Sì, il prezzo del biglietto è sempre 5 euro a coppia. Ci sarà solo l'aggiunta di un euro per ogni biglietto acquistato del sorteggio. Vabbè, non è obbligatorio, chi vuole comprarlo? Ad esempio io ne ho già comprati 10. Speriamo che vingi via a questo punto, scusate. Grazie, arrivederci e grazie. E proseguono gli appuntamenti con l'estate gelese. Sabato 3 settembre alle 21 sul Sagrato della Chiesa Madre il Centro Giovanile Musica e Arte porterà in scena il Musical Madre Teresa alla vigilia della canonizzazione della missionaria di Calcutta. E oggi alle 21.30 ai Muretti di Machitella ultimo appuntamento della rassegna Blues e Jets e Other Summer 2016 promossa da Salvatore Fabio Vasta col patrocinio del Comune e con la direzione artistica di Arianna Tranito. Si esibiranno le band Ira Luna ed Evergreen con Yolanda Vox. Sono previsti giochi di luce, videoproiezioni e riprese con il drone. La libreria Mondatori di Gela e l'assessorato alla cultura di Gela in occasione del non incontro dei venerdì letterari domani alle 19.30 presso l'Eschiro Lab presenteranno il libro A Palermo, a Palermo di Carlo Loforti. Dialogherà con l'autore Andrea Turco, letture a cura di Lucilla Anzalone. Ancora tennis di grande qualità a Gela dove nei prossimi giorni gli appassionati avranno l'occasione di vedere in azione i campioni del futuro. I migliori 16 giocatori del tennis siciliano appartenenti alla categoria Under 10, maschile e femminile disputeranno proprio a Gela il master finale tappa conclusiva del circuito Sicilia 2016. Il Comitato regionale siciliano della Federazione Italiana Tennis ha deciso di assegnare il torneo a Gela ed intitolarlo a Roberto Romagnoli in stimata figura del tennis siciliano e simbolo della storia del tennis gelese recentemente scomparso. Giorni 3 e 4 settembre prossimi l'ENI Group Tennis Gela rinominato Circolo Tennis Romagnoli grazie alla sensibilità del dopolavoro ENI che ne supervisiona da sempre le attività avrà l'onore di ospitare e organizzare questa prestigiosa manifestazione che sarà coordinata dal nuovo direttore di circolo Roberto Marchesi. In occasione del master saranno presenti il presidente della Federazione Siciliana Tennis Gabriele Palpacelli e i componenti del Comitato. Abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti